Immaginate di poter controllare la volontà di qualcuno, di potergli estorcere qualunque informazione o, al contrario, di trasformarlo in un burattino, disposto a compiere qualunque azione, magari addirittura assassinare un capo di Stato. Roba da fantascienza può darsi, ma nel secolo scorso la CIA creò veramente un progetto segreto impegnato a trovare la chiave giusta capace di permetterle di controllare la volontà altrui. Un progetto non solo segreto, ma privo di qualunque controllo e con assoluta capacità di manovra. Chi lo guidava avrebbe potuto fare di tutto pur di raggiungere il sacro graal del controllo mentale, persino arrivare a uccidere persone innocenti. È con la storia spaventosa eppure assolutamente reale del progetto MK Ultra che ritorna oggi Strane Storie. 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 Di teorie del complotto fantasiose abbiamo parlato tante volte qui sul canale, da quella sulle scie degli aerei, che sarebbero veleni mortali, a quella sulla sostituzione di Paul McCartney con un sosia, bufale prive di qualunque fondamento. Eppure, lo abbiamo visto anche in diverse occasioni, ci sono pure teorie del complotto che, alla prova dei fatti, poggiano su dati molto più concreti, alla luce dei quali i nostri peggiori sospetti potrebbero rivelarsi giustificati. Esistono, infatti, per davvero diversi casi in cui un governo o una potenza mondiale ha complottato contro i suoi stessi cittadini, nascondendo informazioni scomode o compromettenti. E ci sono state volte in cui i servizi segreti di queste nazioni o di altre hanno agito in contrasto con qualsiasi norma etica sulle sperimentazioni da condurre sugli esseri umani. Ebbene, è proprio dentro una vicenda di questo secondo tipo che oggi ci addentreremo, una delle pagine più oscure della storia della democrazia americana contemporanea. Oggi cercheremo più che mai di separare le dicerie dalle fonti documentate e andremo alla scoperta della vera storia del progetto MKUltra. Ben trovati i naviganti del mistero e dell'insolito. Io sono Massimo Polidoro e vi do il bentornato a questa nuova, attesissima, stagione di strane storie. La mia serie più longeva, lo sapete che da quattro anni, ogni venerdì alle 13.30 puntuali, ci conduce a indagare con gli strumenti della scienza e della razionalità enigmi e credenze ai confini del reale. È vero che questa è la mia serie più longeva, ma sapete bene che negli anni sono nate anche altre serie, no? La stanza delle meraviglie, il caso Kennedy, uno studio in nero e altre ancora. E tuttavia, io credo sia arrivato il momento di fare un salto di qualità. Come ho spiegato in una live di qualche giorno fa, a cui vi rimando, se volete, è ora di fare le cose ancora più sul serio. Abbiamo bisogno di uno studio vero e proprio per le riprese. La mia stanza delle meraviglie inizia a starmi un po' stretta. Dove ci possiamo organizzare per creare nuovi progetti? Vi piacerebbe, per esempio, una serie che analizza esclusivamente casi che non hanno mai trovato soluzione? Oppure un'altra che indaga sulla veridicità storica e scientifica dei racconti biblici? O, ancora, una che vada a scoperchiare e svelare i tanti misteri italiani. Insomma, le idee sono tante, non ci mancano. Quello che ci manca adesso è qualcosa per cui ci serve l'aiuto di tutti. Di tutti coloro come voi, a cui piacciono magari le serie che realizzo e se apprezzate il lavoro che faccio, quindi io vi invito a unirvi a me, agli altri naviganti e a sbarcare con noi sulla mia isola del mistero, cioè la mia pagina Patreon, attraverso cui è possibile oggi sostenere i costi di tutto quello che realizzo e che condivido gratuitamente con tutti. Per riuscire però ad affittare, acquistare uno spazio e quindi fare quel salto di qualità di cui vi dicevo, dobbiamo arrivare almeno a 500 naviganti e al momento in cui sto preparando questo video abbiamo superato i 380. Non manca moltissimo, però adesso c'è davvero bisogno di tutti voi. Venite sull'isola, troverete tantissimi contenuti esclusivi, video, approfondimenti, dietro le quinte, file da scaricare, documentari. Ce ne sono quasi 300 e sono tutti lì per voi. Ogni settimana poi ne aggiungo sempre di nuovi e poi troverete una comunità di persone davvero entusiaste, appassionate, piacevoli anche e potrete accedere anche a una chat esclusiva su Telegram dove ci sono io e dove ci sono tutti quanti. Insomma, se l'idea di sbarcare sull'isola è qualcosa a cui ogni tanto magari avete pensato, ma sì, si potrebbe provare, questo è il momento di farlo. Vi assicuro che ne usciranno tantissime cose belle per tutti. E ora è il momento di tornare a un'epoca dove chi aveva il potere credeva di poter fare tutto ciò che voleva, sicuro che non ci sarebbe stata nessuna conseguenza. Molti di voi, come me, avranno sicuramente seguito la serie Netflix Stranger Things, oppure avranno visto al cinema il film L'incendiaria o magari avranno letto il libro di Stephen King da cui è tratto. Bene, in Stranger Things una ragazzina evade da una prigione del governo americano dove si sperimentano avanzate tecniche di controllo mentale e di sviluppo dei poteri psichici. Nell'incendiaria i genitori della ragazza protagonista vengono coinvolti nel test di una droga sperimentale, gestito da un organismo federale degli Stati Uniti, soprannominato La Bottega. Sono storie di fantasia, certo, piene di emozioni, avventura, suspense, ma entrambe sono storie ispirate a un progetto che è stato veramente messo in atto dal governo americano ed è durato all'incirca vent'anni tra il 1953 e il 1973. È il progetto MKUltra. Davvero può essere esistito qualcosa di così incredibile da film o romanzo di fantascienza, per l'appunto? Qualcosa dai risvolti talmente inquietanti da far pensare all'ennesima teoria del complotto priva di fondamento? Come può essere vera una cosa del genere? E allora è bene fare un passo indietro e cercare di capire come nasce questa storia. Innanzitutto, una delle ragioni per cui sono fiorite tantissime leggende sul progetto MKUltra è che non ne conosciamo tutti i dettagli. Parte della documentazione sul progetto fu distrutta negli anni 70, prima che potesse essere rivelata al pubblico. Da quanto è rimasto, da quanto è sopravvissuto, dai documenti declassificati, comunque possiamo ricostruire la storia di questa vicenda, almeno a grandi linee. Il 13 aprile 1953, Allen Welch Dahls, che all'epoca era il direttore della CIA, ordinò di avviare un progetto chiamato MKUltra. Forse MK sta per Mind Control. A capo viene messo Sidney Gottlieb, un biochimico che alcuni anni prima, nel 1943, aveva conseguito un dottorato al Caltech, il California Institute of Technology. I suoi studi, iniziati con l'analisi delle sostanze chimiche, contenute nei fagioli, erano poi virati sul metabolismo dei funghi, tra cui anche l'ergò, un fungo che può infettare la segale e che è noto per i suoi alcaloidi allucinogeni e vasocostrittori. Ecco, fino a che punto queste sostanze siano pericolose lo si vide già nel 1692, quando, nella cittadina di Salem, nel Massachusetts, si svolse una serie di processi tra i più aberranti della storia moderna. 144 persone furono accusate di stregoneria e imprigionate, 19 furono condannate a morte e una uccisa sotto tortura. A condannare quegli innocenti furono solo le misteriose convulsioni, le posture insolite che improvvisamente iniziavano ad assumere. Non potevano che essere possedute dal demonio, pensarono le autorità giudiziarie dell'epoca. Ma in realtà, si sarebbe scoperto solo secoli dopo, quelle persone erano state vittime di una intossicazione da alcaloidi prodotti proprio da un fungo che aveva attaccato la segale. Gli studi di Gottlieb su questo tipo di sostanze avevano colpito i piani alti della CIA, sempre alla ricerca di nuove idee. In particolare, poiché il progetto MKUltra aveva come obiettivo quello di sviluppare farmaci, droghe e tecniche per il controllo mentale di prigionieri e leader nemici, Gottlieb sembrava la persona giusta da coinvolgere. E tuttavia, per capire come mai questo obiettivo fosse considerato tanto importante per la CIA, occorre ricordarci com'era il mondo dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, con la vittoria degli alleati dell'Unione Sovietica sul nazismo di Hitler, il pianeta venne spartito in due, tra il blocco sovietico e quello atlantico. In America erano anni di fortissima paranoia anticomunista. Come già abbiamo raccontato in un altro episodio, il senatore Joseph McCarthy aveva lanciato una vera e propria caccia alle streghe moderna, denunciando la presenza di nemici interni che cospiravano segretamente con i russi per portare al crollo dell'America. Tantissime persone in quegli anni vennero accusate ingiustamente di essere fiancheggiatrici dell'Unione Sovietica. Nel 1950, un giornalista americano, Edward Hunter, iniziò a raccontare che i maoisti in Cina e in Corea disponevano di raffinate tecniche per compiere il lavaggio del cervello. Tecniche che applicavano ai prigionieri di guerra statunitensi. Quali prove aveva per questo tipo di affermazione il giornalista? Niente di solido, ma secondo lui solo così si potevano comprendere i racconti di quei soldati che avevano deciso di voltare le spalle al proprio paese e unirsi ai sovietici. O di coloro che dopo anni di prigionia facevano dichiarazioni a favore dei loro carcerieri. Non c'era altra spiegazione possibile, no? Almeno così credeva Hunter, fervente anticomunista ed ex esperto di propaganda per l'Office of Strategic Services, praticamente un antenato della CIA. Che però non sapeva assolutamente nulla circa la psicologia dei prigionieri, ma che per rendere più credibili i suoi allarmi esagerava la portata delle famigerate tecniche di persuasione disponibili in quel momento al nemico. Da quanto sappiamo in realtà, negli interrogatori dei prigionieri americani non vennero utilizzati farmaci innovativi né altre tecniche particolarmente raffinate. Non possiamo, però, fare una colpa a Edward Hunter per la sua ignoranza. La cosiddetta sindrome di Stoccolma, per esempio, un termine con cui in genere si indica quello stato di dipendenza psicologico-affettiva che può svilupparsi tra un prigioniero e il suo carceriere, sarebbe stata usata per la prima volta solo nel 1974, più di vent'anni dopo. E dunque, l'unica spiegazione immaginabile al tempo, per spiegare possibili tradimenti o accondiscendenza nei confronti dei carcerieri di potenze nemiche, non poteva che essere qualche forma di lavaggio del cervello. Ma se era veramente così, poiché gli americani non possedevano niente del genere, beh, significava che la CIA era molto indietro rispetto ai colleghi cinesi. Bisognava correre ai ripari. Prima di MKUltra, altri due progetti simili erano stati avviati negli anni precedenti. Il progetto Chatter, che significa chiacchiericcio, e il progetto Bluebird, un tipo di tordo, un uccello diffuso nelle Americhe. Un progetto che poi venne ribattezzato Artichoke, cioè carciofo. Scopo di questi ambiti di studio era quello di esaminare le sostanze chimiche conosciute in modo da sviluppare nuove applicazioni militari. Il progetto Artichoke, per esempio, studiava la dipendenza da morfina. È dunque da questi due filoni di studio che prese vita il progetto MKUltra, che, come abbiamo detto, aveva lo scopo di sviluppare metodi di interrogatorio standard e facilitatori farmaceutici che potessero aiutare a strappare informazioni ai prigionieri nemici. Ebbene, in che modo si poteva tentare di estrarre queste informazioni da qualcuno che aveva ben poca intenzione, se non nessuna, di confessare? E come si potevano cancellare dalla mente di una spia o di un traditore in formazioni troppo delicate? O, viceversa, quali armi si sarebbero potute fornire ai soldati per dare loro la possibilità di resistere alle potentissime tecniche di interrogatorio nemiche? Erano tutte domande per cui non esistevano risposte. E la CIA, in particolare, non era attrezzata per condurre ricerca in proprio. E dunque, per tentare di trovare queste risposte, furono coinvolte almeno 44 università, quindi 15 istituti di ricerca, 12 strutture ospedaliere e 3 carceri. Non si trovavano tutti sul suolo americano, però. Alcuni esperimenti vennero condotti in Canada, altri in Danimarca e altri paesi. Gli istituti, tuttavia, non sapevano di lavorare per la CIA e nemmeno sapevano che le loro ricerche facevano parte di un progetto segreto. Le singole ricerche, infatti, erano finanziate attraverso istituzioni e fondazioni di facciata, come per esempio la fantomatica Society for the Investigation for Human Ecology. Spesso gli studi venivano condotti su soggetti umani che non erano stati adeguatamente informati, per usare un eufemismo. A volte erano addirittura inconsapevoli del fatto che stavano prendendo parte a un esperimento. Un esempio è il sottoprogetto noto come Midnight Climax, con cui la CIA istituì diverse case per appuntamenti nell'area di San Francisco, presso strutture di proprietà dell'agenzia. Le camere erano dotate di specchi unidirezionali attraverso i quali si poteva osservare indisturbati e filmare tutto quello che avveniva al loro interno. Ma cosa serviva a spiare gli incontri delle prostitute? Semplice. La CIA voleva sperimentare la somministrazione di LSD sugli esseri umani e scelse di farlo sui clienti delle prostitute. Perché? Beh, ipotizzavano che gli uomini coinvolti sarebbero stati forse troppo imbarazzati per rivelare ad altri quello che era loro successo. Cave umane sotto ricatto, insomma. Se però l'idea era quella di somministrare la droga ad agenti nemici o a capi di stato avversari, magari con l'intento di sabotare una riunione, occorreva studiare anche l'effetto che l'LSD poteva avere in situazioni, per così dire, sociali. E così si arrivò ad alcune delle ricerche più agghiaccianti, in cui sostanze stupefacenti venivano somministrate a comuni cittadini, magari semplici clienti di un bar o di un ristorante. I soggetti poi venivano seguiti, pedinati dagli sperimentatori, per studiare le loro reazioni durante le attività di tutti i giorni. Ma in qualche caso, a quanto pare, gli incaricati si persero le cavie degli esperimenti, magari nel traffico, e furono costretti a interrompere la sorveglianza, lasciando vagare persone inermi intossicate a loro insaputa. Le attività della CIA non si limitavano però alla somministrazione di sostanze psichedeliche a persone ignare. Vennero testate anche molte altre sostanze chimiche, farmaci come il Pentotal, droghe come l'eroina. Per Gottlieb l'obiettivo era duplice. Secondo lui, per controllare la mente di qualcuno bisognava prima cancellare la mente esistente e poi si doveva trovare il modo di inserire una nuova mente nel vuoto che si era creato. Tuttavia, non si riuscì mai ad andare più in là del primo obiettivo, provocando danni, spesso irreversibili, in persone del tutto ignare di ciò che si stava sperimentando sulla loro pelle. A volte, per esempio, queste ricerche venivano condotte sulle persone più inermi di tutte, i pazienti psichiatrici. Presso la McGill University, ad esempio, il dottor Donald Cameron sottopose diversi pazienti con lievi disturbi psichiatrici a terapie a base di elettroshock e droghe. Presso il Public Health Service Hospital di Lexington, i tossicodipendenti in cerca di una terapia vennero trattati a suon di LSD, metanfetamina e funghi psichedelici. Funzionavano queste terapie ai fini della guarigione dei malati? Non è dato saperlo ed è piuttosto improbabile. Ma la cosa più importante per la CIA era che tutto questo rappresentava materiale rilevante per il progetto MKUltra. Tra le altre tecniche che venivano studiate ci furono anche gli effetti della deprivazione sensoriale e dell'isolamento, la reazione all'aggressività verbale durante un interrogatorio e anche la risposta all'elettroshock, l'ipnosi, l'abuso sessuale e altre forme di tortura. Queste varie forme di violenza e abuso, ribattezzate tecniche di interrogatorio avanzato, furono messe in atto, studiate e affinate per lo più nei campi di prigionia che la CIA aveva installato nei territori occupati alla fine della guerra. Per esempio in Giappone, in Germania, nelle Filippine. Sono tutte ricerche che oggi qualsiasi comitato etico renderebbe impossibile, anche solo da ipotizzare, senza nemmeno pensarci due volte. Ma, certamente, all'epoca i comitati etici nemmeno esistevano. Siccome manca così tanta documentazione, è normale che il progetto MKUltra sia stato chiamato in causa per spiegare diversi episodi misteriosi di quegli anni. Un esempio è quello che accade nell'agosto del 1951 al paesino di Pont-Saint-Esprit, in Francia. A causa di un avvelenamento di massa, circa 250 persone accusarono sintomi psicofisici come dolori gastrointestinali, nausea, ma anche deliri, allucinazioni, episodi psicotici ed esplosioni incontrollate di violenza. Ci furono alcune vittime e diversi ricoveri. La spiegazione più probabile, avanzata dal Laboratorio di Tossicologia di Marsiglia, è che si sia trattato di un episodio di ergotismo. Ricordate l'avvelenamento da segale contaminata con il fungo ergot. Ebbene, nonostante la confessione di un mugnaio che ammise di aver mescolato farina di segale avariata a quella di frumento per risparmiare, c'è chi ha voluto vedere nell'episodio un eclatante esperimento condotto dalla CIA sul suolo francese. Nessuna prova però sembra collegare i fatti di Pont-Saint-Esprit al famigerato progetto MKUltra, anche se le leggende continuano a circolare. Tra i miti più pervasivi che circondano il progetto c'è poi quello secondo cui lo scopo finale di tutto quanto fosse quello di ottenere un candidato della Manciuria. Che cos'è il candidato della Manciuria? Beh, questa definizione viene dall'omonimo romanzo di Richard Condon, pubblicato nel 1959, poi diventato anche un celebre film nel 64, interpretato da Frank Sinatra, e ancora un remake molto più recente nel 2004. Nel romanzo un soldato americano viene catturato con il suo plotone e portato in Manciuria, una regione della Cina, dove subisce un lavaggio del cervello che lo trasforma in un agente dormiente. Quando viene attivato da un particolare comando, cioè quando sente pronunciare un preciso ordine, si trasforma di colpo in un perfetto assassino, pronto a eseguire gli ordini ricevuti dai suoi padroni. Un'idea straordinaria per un romanzo, ma totalmente impossibile dal punto di vista scientifico. Non vi stupirà sapere che, secondo qualcuno, anche Lee Harvey Oswald, l'assassino del presidente Kennedy, sarebbe stato indotto a uccidere grazie alle tecniche sviluppate nel corso del progetto MKUltra. Ma in realtà no. Non ce n'è nessun bisogno. Oswald era abbastanza squilibrato di suo e non aveva nessun bisogno di essere convinto da qualcuno a fare qualcosa di folle come tentare e riuscire a uccidere il presidente degli Stati Uniti. Ma questa, la sapete, è un'altra storia, per approfondire la quale io vi rimando alla mia serie sul caso Kennedy. C'è però da dire che l'idea stessa secondo cui il candidato della Manciuria fosse lo scopo finale di MKUltra è probabilmente infondata. Secondo lo storico Alfred McCoy, anzi, sarebbe stata la stessa CIA a incoraggiare queste dicerie. Perché? Semplice. Per distogliere l'attenzione del pubblico e dei media sul vero obiettivo del progetto, e cioè quello di usare la medicina, la farmaceutica, le scienze sociali per migliorare le tecniche di interrogatorio. Il declino del progetto MKUltra inizia negli anni Sessanta, probabilmente perché la maggior parte delle tecniche utilizzate si erano rivelate infruttuose, se non del tutto inutili. Gottlieb abbandonò le ricerche sul controllo mentale e si mise a sviluppare veleni e altri gadget per gli 007 americani. E tuttavia, nel 1973, sull'onda dello scandalo Watergate e nel timore di finire sotto inchiesta, l'allora capo della CIA, Richard Helms, ordinò che i documenti segreti su MKUltra fossero distrutti. Nel 1974, il New York Times rivelò al pubblico che la CIA aveva condotto attività illegali e le sperimentazioni non autorizzate su cittadini americani. Il congresso degli Stati Uniti sollecitò un'inchiesta e vennero avviate ben due commissioni per indagare sul caso. La prima fu presieduta da Nelson Rockefeller e stabilì che la CIA aveva effettivamente compiuto violazioni dei diritti di cittadini americani. Una commissione più estese di maggior portata, incaricata di indagare sugli eventuali abusi di CIA, FBI, NSA e altre agenzie governative, fu presieduta invece dal senatore Frank Church. Tra le altre cose arrivò alla conclusione che erano stati condotti davvero esperimenti su soggetti ignari. La commissione terminò i suoi lavori nel 1976 e fornì al congresso un lungo rapporto su quanto aveva appurato, suddiviso in sei libri. In ossegue alle raccomandazioni del comitato, il presidente Gerald Ford emanò un decreto esecutivo che tra le altre cose proibiva da quel momento in poi la somministrazione di droghe senza il consenso firmato dell'interessato. Un decreto che verrà successivamente ampliato a qualunque altro tipo di sperimentazione. Quello che sappiamo oggi sul progetto MKUltra si deve, oltre al lavoro delle due commissioni, anche al fatto che alcuni documenti sopravvissero alla distruzione. Circa ventimila file erano stati archiviati in modo inconsueto all'interno di una sezione solitamente non usata a quello scopo e si erano così salvati. Riguardavano per lo più i finanziamenti del progetto e vennero scoperti solo nel 1977, grazie a una richiesta che faceva uso del FOIA, il Freedom of Information Act, la normativa che permette ai cittadini statunitensi di richiedere gli atti archiviati dagli enti pubblici su temi di loro interesse. Nel 2001 sono stati declassificati anche gli ultimi pochi documenti che erano rimasti riservati. Come abbiamo visto, non ci sono dubbi che il progetto MKUltra e i suoi sottoprogetti provocarono moltissimi danni diretti e indiretti alla salute e al benessere di coloro che ne furono vittime. Tuttavia, anche oggi, dopo così tanti anni, non è possibile rispondere con chiarezza alla domanda più agghiacciante. Ci furono dei morti a causa degli effetti delle somministrazioni delle droghe? È davvero difficile rispondere e i motivi sono parecchi. Tanto per cominciare, risulta evidente che la CIA ha distrutto in modo deliberato gran parte dei documenti sul progetto e non sappiamo quante persone siano state coinvolte. Quando si parla di effetti a lungo termine sulla salute, una delle cose più importanti è la raccolta di dati relativi al follow up. Il problema è che quasi in nessun caso si sa in che modo, nei decenni successivi, le somministrazioni hanno avuto un impatto sulla vita delle persone, sulla loro salute e sulla loro integrità psichica. In almeno un caso, però, grazie alla commissione Church, sappiamo che MKUltra potrebbe aver indotto la morte di una persona. Il caso riguarda un biochimico che aveva servito nell'esercito americano e anche nella CIA. Si chiamava Frank Olson ed era un esperto di guerra batteriologica. Tanto che nel 1950 aveva partecipato ad alcuni esperimenti segretissimi di diffusione di batteri e di produzione di tossine. Nel 1953, quando il progetto MKUltra prese avvio, Olson aveva 43 anni. Era sposato da parecchi anni con una sua compagna di scuola e aveva tre figli. Nel mese di novembre 1953 Olson si trovava presso un'installazione militare di alta sicurezza Camp Detrick nel Maryland, non lontano da Washington. Fu lì che a lui e ad altri, il 19 novembre, fu somministrata una forte dose di LSD. Al gruppo venne rivelato solo in seguito la natura della sostanza che avevano ingerito. Olson tornò a casa sconvolto, con l'aspetto assente. Pochi giorni dopo, durante la notte, precipitò dalla finestra dell'hotel Pennsylvania a Manhattan, dove si era recato con un collega. Aveva infatti accettato di farsi visitare da un medico della CIA perché i suoi sintomi si stavano aggravando. Le circostanze della sua morte risultarono sospette. Le modalità del presunto suicidio erano insolite, ma la natura altamente classificata di MKUltra e le conclusioni tratte sul momento dalla polizia fecero desistere anche la famiglia dal chiedere ulteriori indagini. Soltanto dopo che nel 1975 lo scandalo MKUltra esplose sul serio, i parenti pretesero accertamenti necroscopici sul corpo. L'esame rivelò una forte probabilità che Olson, prima di cadere dalla finestra, fosse stato aggredito e colpito alla testa e al torace. Ma anche queste conclusioni non sono del tutto sicure. Il sospetto del suicidio rimane, anche perché dal punto di vista psicologico da tempo Olson mostrava parecchie difficoltà ed era sempre più convinto della immoralità dei compiti che gli venivano assegnati dai suoi superiori. Allo stesso tempo, il dubbio della famiglia di Olson e dei suoi legali è che il ricercatore fosse diventato un pericolo per la segretezza di un progetto così sporco come MKUltra. Certo, da qui a concludere che la morte di Olson sia dovuta, senza alcun dubbio, all'opera di un killer, ce ne corre. Ma l'evidenza immersa da questo cold case mostra che la fine del biochimico rimane avvolta dall'ambiguità e che le recriminazioni sulla sua fine non sono ingiustificate. Il minimo, che possiamo dire, è che in modo più o meno indiretto la morte di Frank Olson è da mettere nel conto di chi concepì e gestì in quegli anni il progetto MKUltra. E non sappiamo se sia stata davvero l'unica. Che bilancio possiamo trarre oggi da quell'esperienza folle, alimentata da credenze infondate, priva di qualunque regolamentazione e volta unicamente a trovare nuovi modi per imporre con la forza la propria volontà su altri esseri umani. Uno dei meno ovvi è che il progetto MKUltra fu involontariamente all'origine della nascita della controcultura giovanile degli anni Settanta, che vedeva nell'LSD la sostanza magica, capace di dilatare le coscienze e aprire, come diceva Aldous Huxley, le porte della percezione. L'LSD, infatti, non esisteva negli Stati Uniti. Era stato sintetizzato per la prima volta il 16 novembre 1938 nei laboratori Sandos di Basilea, dal chimico svizzero Albert Hoffman. Costui stava conducendo ricerche sugli alcaloidi presenti nella scilla marina e nella segale cornuta, nel tentativo di ricavarne sostanze utilizzabili come farmaci. E tra i vari derivati che aveva sintetizzato c'era la dietilamide venticinque dell'acido lisergico, da lui così chiamata perché proveniente dal campione numero 25. Ma l'acido lisergico è proprio quel composto presente nell'ergò, il fungo parassita della segale di cui abbiamo parlato all'inizio. Stephen Kinzer, autore di Poisoner in Chief, cioè avvelenatore in capo, il libro che analizza molto attentamente la figura di Sidney Gottlieb e il tentativo della CIA di realizzare il controllo mentale, spiega che quando gli scienziati della CIA vennero a conoscenza dell'esistenza dell'LSD, questa divenne un'ossessione per i primi direttori dell'MK Ultra. Per questo Sidney Gottlieb può davvero essere considerato colui che ha portato l'LSD in America, trasformandosi nel padrino inconsapevole dell'intera controcultura dell'LSD. All'inizio degli anni 50 Gottlieb fece in modo che la CIA pagasse 240.000 dollari per acquistare l'intera fornitura mondiale di LSD. La portò negli Stati Uniti e iniziò a diffonderla in ospedali, cliniche, carceri e altre istituzioni, chiedendo a tutti, attraverso le fondazioni fasulle di cui si diceva, di realizzare progetti di ricerca per scoprire che cosa fosse questa LSD, come le persone reagivano a questa sostanza e come poteva essere usata in modo da trasformarle in uno strumento per il controllo mentale. Ora, le persone che si offrirono volontariamente per questi esperimenti e iniziarono a prendere l'LSD in molti casi lo trovarono anche piacevole. Ne parlavano ai loro amici. Chi erano queste persone? Alcune erano molto famose. Ken Casey, per esempio, l'autore del celebre romanzo qualcuno volò sul nido del cuculo, poi trasformato nel film di culto che ha lanciato Jack Nicholson, aveva assunto l'LSD in un esperimento sponsorizzato dall'MK Ultra e da Gottlieb. Lo stesso ha fatto Robert Hunter, il paroliere dei Grateful Dead, che divenne un grande diffusore della cultura dell'LSD. Allen Ginsberg, il poeta che predicava il valore della grande avventura personale dell'uso dell'LSD. Ricevette il suo primo LSD direttamente da Sidney Gottlieb, anche se ovviamente non ha mai conosciuto quel nome. Così la CIA ha portato l'LSD in America senza volerlo e in realtà possiamo vederla come una tremenda ironia della sorte. Che la droga che la CIA sperava fosse la chiave di volta per controllare l'umanità, in realtà ha finito per alimentare una ribellione generazionale dedicata a distruggere tutto quello che la CIA aveva di più caro e difendeva con più forza. Nella sua inchiesta Kinzer rivela anche qualcosa di molto più inquietante. Il progetto MK Ultra era essenzialmente una continuazione del lavoro iniziato nei campi di concentramento giapponesi e nazisti. Non solo si basava grossomodo su quegli esperimenti, ma la CIA assunse addirittura i vivisezionisti, i torturatori che avevano lavorato in Giappone e nei lager nazisti, perché venissero a spiegare loro quello che avevano scoperto, in modo da potersi basare sulle loro ricerche. Tra coloro che furono invitati ci furono i medici nazisti che avevano condotto esperimenti approfonditi con la mescalina nel campo di concentramento di Dachau. La CIA era molto interessata a capire se la mescalina potesse essere la chiave per il controllo mentale. Una delle fisse più grandi che aveva l'Agenzia di Intelligence americana, e fin qua ci siamo arrivati. A questa collaborazione con i medici nazisti si deve anche un'altra, orribile, aggiunta al patrimonio di strumenti letali a disposizione dei servizi segreti. L'utilizzo di gas velenosi come il sarin. I medici nazisti furono invitati in America a Fort Detrick, nel Maryland, dove il progetto aveva il suo quartier generale, per tenere lezioni agli ufficiali della CIA e spiegare loro quanto tempo ci voleva per far morire le persone con il sarin. Come lavoravano gli agenti della CIA in Europa e in Asia? Catturavano agenti nemici, altre persone che ritenevano sospette o, comunque, sacrificabili. Prendevano queste persone, le chiudevano in qualche cella per poi testare su di esse qualunque strategia di controllo mentale. Non solo droghe, farmaci, ma anche tecniche come l'elettroshock, le temperature estreme, l'isolamento sensoriale e, nel frattempo, le bombardavano incessantemente di domande, cercando di capire se potevano abbattere la loro resistenza e trovare un modo per distruggere l'identità di quelle persone. Si trattava, quindi, di progetti concepiti non tanto per comprendere la mente umana, come si diceva, ma più che altro per distruggerla. E Gottlieb, che per certi versi era anche una persona molto compassionevole, può ben diritto essere ricordato come il torturatore più prolifico della sua generazione. Gottlieb aveva davvero la licenza di uccidere. Aveva il permesso di requisire soggetti umani in tutti gli Stati Uniti, in tutto il mondo, e sottoporli a qualsiasi tipo di abuso volesse, fino a renderli fatali. Eppure nessuno poteva dire nulla. Non c'era nessuna supervisione. L'unico controllo era quello del suo vero capo, cioè Richard Helms, e del direttore della CIA, Alan Dahls. Ma né l'uno né l'altro volevano davvero sapere che cosa stesse facendo. L'idea era che il progetto del controllo mentale fosse così importante che chiunque fosse riuscito a padroneggiarlo avrebbe impugnato la chiave del potere mondiale. E per raggiungere un obiettivo simile, pensavano i capi della CIA, qualunque azione era lecita. Siamo dunque giunti al termine di questo primo inquietante episodio della nuova stagione di Strane Storie e io vi ringrazio per essere stati con me. Ringrazio anche i naviganti che ci aiutano a realizzare questo, tutti i contenuti che condivido qui e sugli altri miei social, sbarcando sulla mia isola del mistero, la mia pagina Patreon. Oggi potete sbarcare anche voi sull'isola e ci aiuterete a raggiungere nuovi traguardi, a mettere in campo nuovi progetti. Guardate che basta poco, è l'equivalente di un caffè, di una pizza. Ma facendolo inoltre avrete accesso a tantissimi contenuti esclusivi che trovate solo lì, dietro le quinte del mio lavoro, tecniche di indagine sui misteri, miei antichi spezzoni televisivi che commenteremo insieme, trucchi svelati, documentari, poi rispondo alle domande in periodici Q&A e molto molto altro. Inoltre potrete entrare in una chat segreta dove oltre a me si trovano tanti altri naviganti. Leggete i loro nomi tra l'altro nella sigla di questo episodio e magari presto potrebbe esserci anche il vostro. E dunque venite su Patreon, vi aspettiamo. Per finire, ultima cosa, vi ricordo il mio libro geniale che mi auguro abbiate letto quest'estate, ma che fate sempre in tempo a recuperare. E ve lo ricordo perché continua a raccogliere tanti apprezzamenti e riconoscimenti da parte dei lettori, ma non solo loro. Pensate che nei giorni scorsi un imprenditore ha voluto regalare 200 copie del libro a tutti gli studenti dell'ultimo anno delle scuole del suo paese perché lo ritiene denso di tutto quello che una persona, un giovane soprattutto, ma non solo, dovrebbe sapere per poter intraprendere una vita piena e capace di dare tante soddisfazioni. E quindi, se ancora non lo avete letto, fatelo, vi aspetta un viaggio veramente sorprendente. Per ora noi ci fermiamo qui e ci rivediamo venerdì prossimo, sempre alle 13.30, con un nuovo straordinario episodio di Strane Storie. Ma guarda un po' chi si rivede. Non me lo dica, non è stato risucchiato dal triangolo delle Bermude, vedo. E no, guardi, io preferisco il Lido di Arma di Taggia. Ma mi scusi, sbaglio o parlava di controllo mentale? Caspita, vuol dire che mi ha ascoltato? Eh, che vuole farci, la tv è guasta. Comunque sappia che ho sviluppato capacità di controllo mentale formidabili. Ma chi? Lei? Si figure che ho il potere di proiettare la mia volontà a qualunque distanza. Come no? E ho la capacità di provocare nelle persone le sensazioni che decido io. Ma figuriamoci, dai. Glielo dimostro? Mhm. Ora lei si sentirà... lei si sentirà molto, ma molto scettico. Ci sono riuscito? Sì, in pieno. Che cosa le dicevo? Incredulo. Ciao!